Ribaltone in casa a Milan Femminile, dove ieri sera è arrivato l'annuncio ufficiale della società rossonera dell'esonero di Mr. Maurizio Gans. Al suo posto è stato promosso in prima squadra l'allenatore della primavera femminile Davide Cortio. Questa decisione è arrivata ovviamente dopo un inizio di stagione praticamente orrendo dalla squadra rossonera. 9 punti in 8 giornate. Il Milan Femminile si trova a 4 punti dalla zona pur scudetto e addirittura a meno 15 dalla prima in classifica che è la Roma. Quindi risultati deludenti. Squadra sinceramente con poco gioco e era inevitabile una scossa. La scossa è arrivata con l'esonero dell'allenatore Maurizio Gans ieri con l'annuncio ufficiale da parte della società rossonera. Ora vedremo se Davide Corti riuscirà a rialzare le sorti di questa squadra. C'è subito un appuntamento importante con il derby contro l'Inter questo fine settimana. C'è da recuperare punti in classifica perché il Milan non può mancare la PUL scudetto. Il campionato, vincere il campionato è praticamente impossibile. La Roma è una squadra fortissima e 15 punti da recuperare alla squadra giallorossa sono tanti, sono tantissimi. Però il Milan deve entrare nella PUL scudetto e cercare di fare il più possibile per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Anche se i punti di distacco sono tanti ma bisogna provarci. L'obiettivo di Davide Corti è quello di svoltare e quindi ottenere risultati positivi e recuperare punti in classifica.